Che non avrebbe affatto favorito l'auspicata pace fiscale tra contribuenti irregolari e fisco? Lo avevamo preconizzato per primi, quando scoprimmo che gli abruzzesi e i cittadini di poche altre regioni italiane non hanno accesso alle agevolazioni previste dalla rottamazione terra. Sul caso Abruzzo relativo alla rottamazione terra è intervenuto anche il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che nel parlare di disparità di trattamento nei confronti di molti cittadini si è appellato al governo e alla Parlamento. Che cosa effettivamente si può fare ancora? Allora, l'argomento è tornato alla ribalta con la recente sentenza della Corte Costituzionale, 51 di marzo 2019. La sentenza che rigetta l'eccezione della Corte dei Conti ha aperto scenari veramente molto complessi. Quindi per le annualità 2000-2006 le cartelle della SOGET hanno la natura di poter confluire nella rottamazione terra. Successivamente invece, non avendo più la SOGET, una funzione di agente dell'entrata per la riscossione, non possono rientrare nella rottamazione terra. E semplificando per i contribuenti, se la cartella del bollo auto della Regione Abruzzo è stata affidata ad Equitalia, per qualsivoglia annualità si può aderire alla rottamazione terra. Se invece il bollo auto è stato affidato alla SOGET, che è un ente non agenziale dell'entrata per la riscossione, non si può aderire alla rottamazione terra. Quello che io credo si possa fare anche in modo non complesso, e quindi il Presidente Marsilio se ne potrebbe fare carico, un intervento presso il MEF, il Ministro delle Finanze, a che con una circolare interpretativa della normativa sulla rottamazione terra, vada ed estendere la possibilità anche per gli enti privati, che hanno la riscossione di determinati tributi locali o regionali, di poter aderire alla rottamazione terra. Quindi con un intervento di prassi ministeriale che è molto più veloce e molto più semplice che quello di una modifica di una norma dello Stato.